La prima novità è l'utilizzo del telefono da parte dei ragazzi che potranno utilizzare per leggere i canti durante l'adorazione e la seconda novità appunto è quella di Dopo Mi Confesso, la band musicale che ci intratterrà durante la scena. Mi raccomando ragazzi non perdetevi il prossimo appuntamento che sarà a Santa Teresa di Calcutta venerdì 13 alle ore 20. Vi aspettiamo!